Buon pomeriggio a tutti, un grazie alla Regione Piemonte, al Consiglio per l'ospitalità e al Presidente Policante per l'invito a questo importante evento e per l'opportunità di fare un ragionamento insieme sul mercato dell'editoria digitale e per presentarvi quello che Telecom Italia sta facendo in questo ambito. Il Presidente Policante ha citato la crisi dell'editoria, in questa slide a colpo d'occhio si vede come questo non sia un fenomeno esquisitamente italiano ma sicuramente che supera i nostri confini anche europei, non pretendo che la leggiate tutta ma sostanzialmente in tutti i paesi si notano dei numeri negativi su vendite, su fatturato ma in generale comincia ad esserci un sostanziale movimento verso lo spostamento, un sostanziale spostamento verso esempi di editoria digitale. Ovviamente chi è partito prima come ad esempio il gruppo Axel Springer in Germania comincia già ad avere effetti positivi sul fatturato per quanto riguarda gli altri, ci sono dei segnali sicuramente positivi in altri paesi ancora un po' presto per fare delle considerazioni ma in ogni caso un po' dovunque si sta guardando con interesse a questo mercato. Quindi più che parlare di crisi penso che possiamo parlare di opportunità di cambiamento e anche di necessità di cambiamento attraverso parole di chi lo descrive ancora meglio di quanto non possiamo fare noi. Credo che questo passaggio, questa rivoluzione digitale sia in qualche modo, non sia in qualche modo una novità per l'industria dell'entertainment in generale anche se probabilmente è una novità per il mercato dell'editoria. Altre industrie prima di queste hanno attraversato periodi di grande crisi legate alla obsolescenza diciamo così del supporto fisico con il quale vengono trasferite e fruite le informazioni e i contenuti. Queste industrie, è nascito qui un paio, hanno saputo ripartire anche grazie al digitale ovviamente non arrivando ai valori di riferimento di anni passati ma sicuramente venendo ad una nuova vita e in alcuni casi creando anche dei nuovi mercati. Faccio il caso della musica dove per quest'anno il peso del digitale sul fatturato arriverà ad avere un sostanziale equilibrio con quello del fisico grazie anche poi ad una nuova moda del vinile ma più interessante ancora è la nascita appunto di questi nuovi modelli che sono proprio dedicati al digitale come quelli in abbonamento piuttosto che lo streaming e i ricavi di advertising legati allo streaming dove qui ovviamente la fa da padrone ancora in Italia YouTube. Il mercato dei video ancor più ha subito una veramente grande rivoluzione e questo sta portando un progressivo spostamento verso il video on demand e non solo da parte di nuovi player che arrivano sul mercato con questo tipo di offerta dedicata ma anche grazie ai broadcaster tradizionali se Sky e Mediaset si possono considerare tradizionali in questo senso che hanno lanciato delle linee dedicate al video on demand in alcuni casi legati agli abbonamenti ma Mediaset ha già annunciato per esempio per fine anno l'apertura di una linea esclusivamente on demand senza neanche bisogno dell'abbonamento. Fa pensare che l'Italia sia secondo i dati di Deloitte il secondo mercato al mondo per l'on demand cosa che probabilmente non tutti sanno e che fino a qualche anno fa magari sarebbe stato anche difficile immaginare. Quindi quello che noi ci aspettiamo è che in qualche modo questa evoluzione verso la digitalizzazione dell'editoria creerà delle opportunità nuove che bisognerà saper cogliere. Cosa spingerà sostanzialmente lo sviluppo di questo mercato e quali sono i fattori critici che bisogna aver presenti per poter competere in questo nuovo mercato? Allora alcune cose sono state citate nei discorsi che mi hanno preceduto. Sicuramente cresce la diffusione di dispositivi che sono necessari e abilitanti alla frizione di contenuti digitali. Si stima che nel 2017 l'85% della popolazione italiana avrà in mano un tablet o uno smartphone. Ad oggi ne possiede uno già il 16% della popolazione possiede un tablet percentuale che sale al 25% nella fascia 18-24. Considerate che solo nei primi sei mesi dell'anno sono stati venduti un milione e mezzo di pezzi e ad oggi già il 62% degli italiani ha in mano uno smartphone. Questo che cosa significa? Significa che sarà vincente chi riuscirà a utilizzare quel dispositivo in mano a un numero così grande di persone per veicolare in modo veloce e magari bandalizzato i contenuti e la connettività. Dal punto di vista del prodotto cresce l'offerta, è stata citata prima, il numero di giornali che sono presenti su internet o comunque il numero di editori che stanno cominciando ad immettere dei prodotti anche pensati squisitamente per il mercato digitale. Cito il caso che penso un po' tutti conosciate di Repubblica che nella versione digitale del suo giornale include anche una versione serale fatta esclusivamente per il digitale piuttosto che versioni pensate esclusivamente per il mondo mobile. Questo fa sì che ci sia la disponibilità di contenuti multimediali e interattivi che però bisogna far conoscere ai clienti che hanno in mano quei dispositivi. Quindi anche qui il fattore critico sarà saperli raggiungere e saper far conoscere questo tipo di servizi superando quella barriera che citava prima il Presidente Policante all'introduzione delle novità che è tipica di qualunque cambiamento. Sarà anche importante analizzare i comportamenti d'uso di questi clienti perché sono diversi da quelli a cui siamo abituati o quelli a cui siete abituati sostanzialmente nella distribuzione nel mercato dell'editoria. Fondamentale è anche l'incremento dell'utilizzo della connettività, quindi la propensione sia a spendere sia ad accedere a contenuti in situazioni dislocate nel territorio. Questo fa sì che per un cliente sarà importante poter accedere in maniera univoca a prescindere da dove si trovi, a casa utilizzando il wifi, sul pc oppure sul tablet, in giro utilizzando uno smartphone. Questo per un cliente diventa assolutamente irrilevante, quindi anche concezioni del passato stanno modificando gli approcci sicuramente anche di Telecom Italia su vedere un cliente come fisso o mobile perché il cliente è un'entità che vuole accedere a tutto quello di cui ha bisogno in qualunque momento. Ecco che qui diventa importante quindi ragionare in un'ottica di servizi multiplattaforma e avere anche modalità di pagamento semplificate perché mentre cresce, seppur lentamente, l'abitudine all'utilizzo della carta di credito da casa, questo è molto meno vero quando si è in giro o si è in mano uno smartphone. Quindi anche qui un fattore critico di successo sarà la possibilità di usare anche diversi strumenti di pagamento. Mi permetto di mostrarvi una slide piuttosto semplice per riflettere però su come cambia non solo l'esperienza del cliente ma anche il ruolo che i player di questi mercati vanno a giocare. Allora fino ad oggi quello che succede è che il cliente ha come unico intermediario tra sé e il contenuto l'edicolante che di fatto distribuisce fisicamente il contenuto e ne ottiene un pagamento nei confronti dell'editore quindi fa diciamo un po' poco senza voler offendere nessuno per diciamo influenzare l'acquisto del cliente. Questo tipo di modello cambia moltissimo quando si passa al digitale perché il cliente ovunque si trovi accede ad uno store, store che ha ovviamente delle logiche promozionali e che offrono un'esperienza che influenzano l'atto d'acquisto e il cliente poi fruisce di questo contenuto dal dispositivo che ha in mano quindi anche in questo caso utilizza diciamo una modalità mediata per accedere allo stesso contenuto. In questo contesto al momento la fanno da padrone in Italia soprattutto gli over the top. Quello che noi che come forse molti di voi sanno sono in buona parte degli ecosistemi chiusi dove le politiche commerciali vengono definite in modo trasversale e vanno sono uguali per tutti dove le logiche promozionali sono definite a monte e dove la relazione con il cliente è sostanzialmente tenuta in mano dal provider di riferimento. Ecco quello che noi come Telecom Italia invece vediamo è un qualcosa di diciamo molto più equilibrato. Come abbiamo approcciato questo mercato? Attraverso una soluzione che risponde al brand di Cubo Libri. Cubo Libri è sicuramente una piattaforma che ad oggi eroga e offre al mercato tutti i prodotti di editoria digitale quindi gli ebook, i quotidiani, i magazine ed è diciamo una delle quattro ed è uno dei quattro prodotti presenti nella suite che risponde al nome Cubo con la quale Telecom Italia ha brandizzato i servizi dedicati ai mercati digitali che presidia che sono appunto la musica, il mondo del video, probabilmente avrete visto anche delle pubblicità proprio in questi giorni in televisione, il mondo dei giochi e il mondo dell'editoria digitale. Cubo Libri ha sicuramente una vetrina disponibile multipiattaforma quindi per pc, per tablet e per smartphone e anche un device dedicato alla lettura dei libri ma soprattutto un catalogo piuttosto importante. Come vedete fanno già parte oggi di questa piattaforma, i principali quotidiani nazionali e già alcune realtà locali, molti migliori magazine in questo momento presenti con una progressione di inserimento abbastanza importante, sono già parte del nostro catalogo, ma vorrei diciamo soffermare l'attenzione sul tipo di ruolo che noi intendiamo giocare come Telecom Italia. Allora quello che noi abbiamo, mettiamo a disposizione dell'editoria sostanzialmente è un ecosistema completo di tutte le componenti. Abbiamo visto prima la cosiddetta vetrina per la vendita e la promozione. Qui fuori se magari ci fate caso nel coffee break abbiamo messo del materiale esposto che non serve tanto per fare pubblicità al sito quanto per farvi capire qual è il tipo di impegno che noi mettiamo per dare visibilità ai prodotti che fanno parte della nostra piattaforma e del nostro store. Noi abbiamo una rete di circa 5.000 punti vendita che oggi è attiva e appositamente incentivata per la vendita di prodotti di editoria digitale e abbiamo un modello di offerta e di gestione dei pagamenti piuttosto flessibile e ampio. Quindi oggi se noi siamo in grado di proporre la vendita dei pacchetti e dei contenuti online attraverso i punto vendita, di proporre strumenti di pagamento variegati che vanno dall'addebito sul credito mobile all'addebito in bolletta sul conto telecom piuttosto che ovviamente l'addebito su carta di credito e gestiamo sostanzialmente qualunque tipo di modello di offerta quindi che va dalla copia singola all'abbonamento settimanale, mensile con tutti i tagli, gestiamo promozioni, scontistiche e coupon. Abbiamo la possibilità di gestire anche la parte di erogazione del servizio di fruizione, abbiamo la possibilità di dare contenuti protetti applicando un DRM, quello più diffuso in Europa che è quello di Adobe e poi ovviamente abbiamo un servizio clienti che ci supporta nella fase di post vendita e monitoraggio. Ora questa panoramica in realtà viene poi ritagliata su misura con gli editori con i quali abbiamo delle relazioni a seconda di quella che è la dotazione tecnologica, la strategia di posizionamento, anche la strategia commerciale di marketing dell'editore stesso. Da questo punto di vista il nostro modello è un modello di partnership, questa è la stessa slide che abbiamo visto dopo dove però vorrei portare la vostra attenzione sul fatto che quello che noi vediamo come modello vincente è quello in cui la strategia di offerta nei confronti del cliente viene definita insieme in partnership, viene monitorata insieme e in partnership e il cliente è un qualcosa che andiamo ad analizzare insieme da più punti di vista, quindi dal punto di vista del comportamento che ha sui dispositivi e dal tipo di profilo magari sociodemografico che ha, cosa che noi ovviamente possiamo in qualche modo riconoscere come nostro cliente, fino alla tipologia di acquisti che fa, il contenuto di cui fruisce. Questo nell'ottica di arrivare a costruire la migliore offerta per il cliente finale, dandogli la migliore esperienza possibile. Come vi dicevo, siamo flessibili, qui abbiamo riportato due esempi diversi di come eroghiamo questo tipo di servizi. Nel caso dei quotidiani, ad esempio, noi abbiamo una fase di acquisto che come vi dicevo può avvenire dal PC o addirittura dalla nostra rete di vendita e una fase di lettura che se ad esempio l'editore ha una sua applicazione con dei contenuti che vengono costantemente aggiornati, multimediali, come il caso delle testate nazionali, prevede il passaggio verso l'editore. In questo modo, diciamo, noi ci occupiamo della fase di promozione e vendita e l'editore si occupa della fase di fruizione. In altri casi, come ad esempio quello dei magazine, noi mettiamo a disposizione il nostro sistema di protezione dei diritti e l'applicazione che serve per lo sfoglio digitale. Non abbiamo preclusione di sorta, in questo senso siamo, come vi dicevo prima, nell'ottica di ritagliare un modello di business su misura a seconda delle necessità dell'editore e di quello che per lui è importante. Quindi, in estrema sintesi, quello che abbiamo detto finora, l'editoria digitale per noi è sicuramente un modello di business su misura, la possibilità di offrire sistemi di pagamento adatti a chiunque, la flessibilità nel definire dei modelli di offerta e promozionali in modo congiunto, la presenza di un'applicazione, l'applicazione Cubo Libri, quello che vi dicevo prima, per la fruizione che noi precarichiamo su tutti i device che vendiamo, una rete diffusa e capillare sul territorio, che è quindi in grado anche di fare politiche di marketing localizzato e un servizio clienti attivo 24 ore su 24. Ci tengo a stressare questo concetto perché, secondo noi, quando si affaccia a un nuovo mercato è importante affrontarlo e farlo sviluppare con equilibrio. Questo è il modo con cui noi vediamo la relazione tra noi e gli editori e questo è il modo che crediamo essere migliore per creare delle soluzioni di sistema per noi, per gli editori e per i nostri clienti. Grazie.